L'amministrazione comunale, insieme ad ASE SPA, con il quale abbiamo stretto un accordo, un contratto di servizio per la gestione della pubblica illuminazione, ha deciso di intervenire su una strada molto importante, molto importante soprattutto per l'abitato di Bellocchi, perché stiamo parlando, sto parlando della strada che collega Bellocchi, soprattutto la zona nuova con Rosciano e quindi con la città e passa davanti al cimitero di Bellocchi, quindi la strada comunale del cimitero di Bellocchi e di Rosciano, per volontà dell'amministrazione e di collaborazione con ASET, sarà illuminata in maniera da poter permettere, anche d'estate, una tarda ora, diciamo di notte, di poter usare quella strada anche come collegamento ciclabile verso il centro. Siamo riusciti a farlo in vari step, quindi quest'anno è la prima parte del progetto, perché ovviamente dobbiamo farlo in più anni e quindi la nuova illuminazione partirà dall'incrocio esistente con la nuova lottizzazione fino ad arrivare nei pressi del cimitero, che è il tratto anche più brutto, quello che dopo diverse segnalazioni abbiamo individuato come quello che aveva più necessità rispetto agli altri di dover essere illuminato. Quindi interverremo nel mese di maggio e dunque credo che faremo fare un passo in avanti anche questa parte di territorio, perché avrà una strada nuova illuminata e potrà permettere anche a chi volesse muoversi d'estate, soprattutto immagino con le biciclette, di utilizzare quel percorso in maniera sicura, senza provocare pericolo e arrecare rischio al proprio movimento.